La semplice elencazione delle fattispecie oggetto delle sentenze emesse dai giudici contabili nel corso del 2011, mentre conferma la tendenza nata sulla scorta delle pronunzie della Cassazione ad allargare l'ambito cognitivo del giudice contabile a tutte le ipotesi in cui vengano in rilievo risorse pubbliche, comunque utilizzate per soddisfare interessi generali della collettività, offre dall'altro una panoramica esaustiva dei comportamenti idonei ad arregare o danno alle finanze pubbliche. Dalla corruzione ai comportamenti dannosi posti in essere nell'esercizio dell'attività sanitaria, dall'errata gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti all'illecita percezione dei contributi pubblici o comunitari, dal gravemente colposo utilizzo di strumenti derivati finanziari o simili prodotti finanziari ai danni commessi alla Costituzione e gestione di società a partecipazione pubblica, dalla responsabilità per danni commessi alla stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitori, ai pregiudizi erariali conseguenti ad errori nella gestione dei servizi di riscossione dei tributi. Si tratta di una lunga e si potrebbe dire ben triste teoria di casi e vicende, qui segnalate solo in parte per categorie generali, che serve non tanto per tracciare una mappatura dell'illegalità, della corruzione o del malaffare, fenomeni ancora notevolmente presenti nel Paese e le cui dimensioni presumibilmente sono di gran lunga superiori a quelle che vengono spesso faticosamente alla luce. La corruzione è un fenomeno dilagante nel nostro Paese. A lanciare l'allarme in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario è proprio la Corte dei Conti che non ha mancato di sottolineare la cultura dell'illegalità diffusa sul territorio italiano. Le reazioni del mondo politico non si sono fatte attendere. Secondo Nichi Vendola è improbabile che le istituzioni pongano rimedio al problema in tempi rapidi. Il presidente di Sinistra Ecologia e Libertà non si fida di questo Parlamento e ricorda che se il governo è potere esecutivo è il potere legislativo ad avere lo scettro in mano su questioni del genere. Anche il dipietrista Massimo Donadi mostra tutto il suo scetticismo e denuncia. Il disegno di legge anticorruzione è bloccato in Commissione Giustizia alla Camera da più di un anno. Questa, ha concluso Donadi, è la dimostrazione del fatto che i governi cambiano ma nessuno vuole affrontare il problema. Il governo è potere esecutivo ma c'è il potere legislativo che poi ha lo scettro in mano su queste questioni. Bisogna vedere se questo Parlamento ha voglia di generare una stagione della democrazia libera dalle ipoteche della corruzione. Posso legittimamente coltivare qualche dubbio che in questo Parlamento si militi per la lotta contro la corruzione? C'è un provvedimento, il cosiddetto disegno di legge anticorruzione, che da più di un anno giace dimenticato alla Commissione Giustizia della Camera. Il problema è che le forze politiche e i governi cambiano ma nessuno vuole davvero mai in questo Paese affrontare di petto il problema della corruzione che è la prima piaga del nostro Paese.